Una lettera, affirma Setola Giuseppe, il killer del clan dei Casalesi, evaso sei mesi fa, data d'inizio della guerra di Camorra, omicidi, stragi, quella di Castelvolturno, ancora vittime. Dalla latitanza affiora uno scritto. Allora, prima cosa, vi chiedo di pubblicare questa lettera, dato che in questo periodo sono state scritte tante cose orribili sul mio conto. Sono stato accusato di molti delitti, senza mai un accenno alle gravi condizioni di salute in cui purtroppo mi trovo da diversi anni. Perdita totale della vista all'occhio sinistro, perdita progressiva al destro. Ecco le perizie mediche su Setola durante la detenzione, referti, firmati da oculisti, luminari, a Monza, Pisa, Napoli. Per queste diagnosi Setola è uscito dal carcere duro, è finito ai domiciliari per curarsi in un centro specializzato a Pavia, da dove è fuggito lo scorso aprile. Tanto a conferma della grave condizione in cui vivo da anni, come se fosse sempre buio e con la paura costante di non poter vedere più la faccia di mia figlia, che non mi avrebbero permesso, sfido chiunque non vede come me, di commettere i gravi delitti che mi vengono ogni giorno accusati attraverso la stampa. Setola quasi cieco, come attestano queste carte. Setola spietato, killer di precisione, è il ricercato numero uno della Camorra. Sui misteri della clamorosa evasione, su eventuali coperture, indaga la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Grazie.